L'uscita di seno di Marika Fruscio ha catalizzato l'attenzione dei media inglesi più di quelli italiani. La showgirl, tifosissima del Napoli e commentatrice della rete televisiva 7 Gold, nonostante la riduzione del suo décolleté, non è riuscita a mantenere il controllo a causa della profonda scollatura. Marika, divenuta famosa proprio grazie alla generosità del suo balconcino, ha scelto di ridurre il seno per tutelare la sua salute. Col tempo infatti, essendo naturale, iniziava a perdere elasticità. Inoltre aveva iniziato ad avere problemi di schiena, raccontava la Fruscio. Non che la riduzione l'abbia fatto perdere pretendenti, ma attualmente si dichiara una single convinta e felice. Sulle motivazioni aggiunge, oggi trovare uomini maturi e intelligenti è molto difficile, spiega la napoletana. La gran parte di loro infatti ha come massima aspirazione quella di diventare tronista o calciatore. E non ci si può aspettare molto da uomini così che la Fruscio stia puntando ad un target maschile dall'alto livello culturale.